Bentornati a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione che parla della salute nel nostro territorio. Abbiamo il piacere di riavere, come abbiamo detto l'altra settimana, il dottor Toffoletto che è il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale di San Donato, ma diciamo di tutto all'UNS. Oggi vorremmo che lui ci spiegasse due problemi. Uno, se secondo lui la nostra rianimazione e il servizio di anestesia deve ancora migliorare e secondo te c'è qualche cosa da fare? E poi ti faccio un'altra domanda. Migliorare è un imperativo categorico a cui tutti noi dobbiamo assolutamente tenere. Assolutamente il mio motto è per aspera ad astra, cioè attraverso le cose difficili alle stelle se si riesce, insomma un po' più sotto. Però devo dire che questa direzione generale ha permesso in questi anni di migliorare enormemente lo stando qualitativo delle attrezzature e degli spazi dove noi ci troviamo a lavorare, per cui addirittura in alcuni casi, faccio un esempio di ipotermia terapeutica, abbiamo anticipato anche di quasi un semestre le direttive delle regioni Veneto nel trattamento dei pazienti. Quindi possiamo dire che al di là delle specialità strettamente specifiche tipo neurochirurgia o cardiochirurgia che sono di appannaggio di centri di riferimento più ampi, le possibilità terapeutiche sono completamente e totalmente soddisfatte per i pazienti del territorio. Bene, un'altra cosetta che lui ha fatto diventare una cosa importante perché la viata qua a San Donà è il centro della terapia antalgica che l'ha sviluppato e quindi non occorre più andare come se andava una volta a maestro, ma si può essere curati qui da noi. Sì, abbiamo dato un notevole sviluppo a questo settore della terapia antalgica anche perché sappiamo che un paziente che ha dolore, che soffre il dolore si riesce ad avere il sollievo dal dolore là vicino a casa e di tutto di guadagnato, sia per lui sia per la struttura stessa che non deve sobbarcarsi di ulteriori costi. Per cui abbiamo messo delle innovative tecniche per trattamento del dolore non maligno ma del dolore cronico, ad esempio il mal di schiena affligge circa l'80% della popolazione, tutti noi abbiamo avuto mal di schiena almeno una volta nella nostra vita e abbiamo in collaborazione con i centri di riferimento di Mestre, di Padova, abbiamo sviluppato un'opera di integrazione in modo che i pazienti se hanno bisogno di cure particolari vanno a Mestre, a Padova e poi vengono seguiti da noi in modo da evitare tutta questa migrazione di pazienti verso centri esterni. Ecco questo penso che sia una cosa molto utile ma molto utile anche dare queste notizie in maniera che la gente sappia che non deve fare quei viaggi, non sono viaggi della speranza ma evidentemente sono viaggi quando si può essere curati in maniera eccellente nel nostro territorio. Bene ringraziamo il dottor Toffoletto e prossimamente sentiremo ancora parlare di lui per un'iniziativa che io so, non ne abbiamo parlato prima, ma che sarà prossimamente in campo qua a Sant'Ona. A voi arrivederci la settimana prossima.